Avevano realizzato all'interno di un capannone a Santa Sofia de Piero, in provincia di Cosenza, una vera e propria struttura per la coltivazione e la produzione di droga. Quattro persone, tra delle quali di nazionalità cinese e un italiano, sono state arrestate dagli agenti del commissariato di Corigliano Rossano, che hanno sequestrato più di 240 kg di marijuana. Da qualche giorno i poliziotti avevano individuato il capannone nella zona industriale della cittadina e, dopo aver informato la procura di Castrovillari, hanno attuato un monitoraggio costante dei luoghi con l'ausilio della squadra mobile di Cosenza. Alle prime luci dell'alba è stato notato un movimento anomalo di un'auto e di un furgone, insieme all'arrivo di tre persone, due donne di nazionalità cinese ed un italiano. Il conducente del furgone è entrato nel capannone e ne è uscito dopo mezz'ora per poi allontanarsi ed essere successivamente fermato e identificato nella zona industriale di Corigliano Rossano. Bloccate anche le due donne, che erano pronte a lasciare la zona a bordo della loro auto. Si stima che nel capannone siano stati realizzati diversi cicli di produzione con un giro di affari milionario.